Mentre la notizia sul TTIP Leaks fa il giro del mondo, Greenpeace ha tenuto una conferenza stampa durante la quale ha rivelato i contenuti segreti sulla trattativa commerciale tra Europa e Stati Uniti. Secondo l'organizzazione ambientalista, con i negoziati rischiamo di perdere i progressi acquisiti nella tutela ambientale e nella salute pubblica. L'Unione Europea ha una posizione non bella negli standard che sono importanti per i consumatori, ha detto il direttore di Greenpeace Europa, e la posizione degli Stati Uniti è persino peggiore. Quindi la prospettiva di avere un accordo finale tra il male e il peggio non è affatto incoraggiante. Bruxelles ha reagito dicendo che nessun accordo commerciale abbasserà il livello di tutela dei consumatori, della sicurezza alimentare o dell'ambiente. Il capo negoziatore dell'Unione Europea ha parlato davanti ai corrispondenti. La fuga di notizie avrà ripercussioni sulle trattative. Non è una bella cosa per la fiducia del processo negoziale che siano trapelati i documenti riservati, ma questo è quanto e al momento non posso aggiungere altro. Per fermare il TTIP, Greenpeace ha fissato un appuntamento nazionale in Italia sabato prossimo, 7 maggio, a Roma. A Berlino l'organizzazione ambientalista ha proiettato sulla facciata esterna del Resta di testi dei documenti, in tutto 248 pagine, in un linguaggio legale tecnicamente molto complesso.